E quest'anno è per la seconda volta che veniamo a Fano, avendo avuto un buon successo l'ultima volta, con il dialetto che comunque chi verrà ad ascoltarci non potrà pretendere il dialetto stretto perché non si può pretendere a Fano di essere capito, però sarà una bella serata. Quindi davvero tante differenze fra il dialetto fanese e quello di Senigaya? Sì, in linea di massima c'è qualche differenza, però io penso che si capiscono bene anche a Fano, poi ecco come diceva il collega qui cercheranno di italianizzare un po' il dialetto. La comedia di cosa si occuperà? Lo possiamo dire? La spoileriamo? Sì, allora la comedia naturalmente in dialetto Senigaya, fatta dai mazzamurei, che poi vi spiegheremo cosa sono i mazzamurei, verte sui temi attuali, principalmente il covid. È vero che non abbiamo una vera e propria commedia, però sono degli sketch su dei personaggi senigallesi seduti in una panchina, che si raccontano tutto tutto, dal piccione che casca per terra morto, al mare, all'acqua, alla gente d'inverno. Addirittura abbiamo uno sketch sul famoso Summer Jamboree che portiamo avanti da vent'anni, quindi sarà una cosa divertente. Stanno abbiamo assunto un maestro chitarrista, Andrea Cialidioni, che sarà probabilmente anche conosciuto, perché fa anche le serate qui in zona, con delle musiche originali, su testo anche del qui presente Luigi Schiaroli, che riguarda, ve lo dico, sia il noto covid, ma il senigallese Silvestri, che è in America facendo il virologo, e anche il signor Burioni. Sappiatelo che comunque prenderemo in giro qualcuno, forse anche qualche politico locale, ma questo è tutto da vedere.